Guarda te sti servizi, ogni estate è uguale, l'estate è più calda degli ultimi 50 anni, per vecchi alla fontana, ti devi portare bottiglietta d'acqua, pure che diventa piscio devi bere, si si diventa calda come il piscio, te la devi bere del forza, poi a finita invece che pia a fuoco tutte le estate che ormai è nobbi, uno dici che fai, vado al mare, montavanoci in campiniera, ovvio no, infatti non ne parlano mai, pia a fuoco la roba non ne parlano mai, poi l'altra volta che ha preparato fuoco qua fuori nel prato, questo non c'è stato io, volevo vedere, eh però Vinny te, porca puttana, con il leggerito del fuoco sei troppo accondiscente, ho capito, c'hanno tutte le mani legate qua, ma devi essere col pugno di ferro Vinny, devi dire paffa a culo, spegni tutto e via qua cazzo, ma che ti ricordi? Eh mi ricordo si, Puzzate fuoco, per cazzo, ma che vi è da fuori? Sì, vigile del fuoco mi dica? Sì, salve, senta, io sono qua, mi chiamo da via Bertilla Santoni 38 e in fondo ai pratoni c'è stato un incendio, ci sono le fiamme. Mi so dire le origini dell'incendio? Che ne so, no, non gliele so dire. Colposo o doloso? Non lo so, ma che vuol dire poi? Dico, è un incendio casuale o provocato? Ma non lo so, io sto a vedere in realtà, ho visto le fiamme e poi ho chiamato, ora se potete venire bene, se no... Faccia dirmi quanto sono alte le fiamme? No, non lo so, da qua è lontano. Beh, vado a vedere, è importante. Sì, aspetti eh. Guardi, saranno due metri, due metri e trenta. E la temperatura? Non lo so, vado a vedere, aspetti. Guardi qua, qua mi dice, mi dice grado R, che grado R? Aspetta, oh ma ci stanno, hanno raggiunto il palazzo le fiamme eh. Cioè, io qua mi sa che sta a peggiorare la situazione. Ma c'è gente nel palazzo? Non lo so, aspetti, vado a vedere. Ha già arrivato l'incendio da voi? Guardi, credo ci sia qualcuno in casa e anche in pericolo. Cioè, io adesso, per non saperne leggere e scrivere, mi sembra grave la situazione. Adesso c'è una vecchia in strada che grida il mio nipotino, il mio nipotino. Oddio, c'è uno vestito da spiderman che va in fiamme. Ma che dobbiamo fare? Ok, adesso vado a vedere se c'è una pattuglia libera. Lei resti lì. Come resti lì? Come? Ok, fra circa mezz'ora dovremo essere da lei. Dio, ormai non serve più. Grazie, arrivederci. Grazie.